Questa è una domanda per parlare del Scudetto, anche una buona domanda, perché è una domanda che arriva indietro, no? Però è facile di fare una risposta. Io vedo il campionato spagnolo e l'Atletico Madrid ha vinto 8 su 8. Non possiamo dire che è il favorito di questo campionato, perché il Barcelona ha gli stessi punti e i favoriti sono il Barcelona e il Real Madrid. Qui è lo stesso, la Juve e il Napoli sono favoriti per vincere questo Scudetto. Per il momento tutto va bene per noi, vedremo ancora, lo dico, che può essere un obiettivo di fare il sprint finale con tutti i favoriti di questo campionato.